Oltre a 2 milioni di euro vengono investiti dalla regione sulla Civitano-Albacina per potenziare il servizio ferroviario in una zona ricca di investimenti produttivi ma anche culturali come l'università. Gli investimenti infrastrutturali non dobbiamo mai dimenticare le ferrovie che restano una risorsa importante di mobilità sostenibile nel nostro territorio. Le stazioni sono importantissime sia come elemento di scambio fra il treno e le realtà in questo caso di Macerati e Tolentino legate anche a dei poli di natura culturale scolastica e anche interessanti perché nel momento in cui si realizzano dei nuovi impianti permettono anche di avere quella percorribilità che oggi è necessaria, cioè la modernità dell'infrastruttura attraverso stazioni nuove con tutte le caratteristiche del caso. Per noi è la conferma dell'investimento che si sta facendo anche per elettrificare quella linea, per qualificarla ulteriormente e trovando nella sistemazione delle attuali stazioni, nella creazione di nuove fermate un motivo in più, un valore in più di questa infrastruttura per tutto il territorio.